Addio! Questo è un grosso indizio, Scooby! Quello là ti fa gelare il sangue nelle vene 24 ore al giorno! Io vado a fare la pipì! Tu non farei niente che addiri l'attenzione! Contati! Ehi, maccio! Ti va di ballare? E me lo chiedi? Al centro della pista! E poi! E poi! E poi! Ciao! Buongiorno! Siamo arrivati all' bobine, Dean allen e e di mine. Ma se è bello ballare con voi... Ehi! È Scooby-Doo! Il bastardo pulcioso che ci ha sbattuto in prigione! Io? No? No, no, no! Aspettate, questo non è Scooby-Doo! Lui in realtà è Lupus Manaris! Il testo indossa una maschera! Ta-ta! Ora lo riconosco, quello è il suo miglior amico! Shaggy Rogers! Dov'è? Sei tu! Ritirata a scappare! Non lo risate! Aspetta! Aspetta! E non tornate mai più! Non ci è andato tanto male, Scooby! Non ci è andato senza giro!